Napoli domenica 8 maggio ore 20 e 45. La VL chiude la sua regular season col sorriso di chi ha centrato il gratificato obiettivo della salvezza e con l'appetito di chi vuole allungare le emozioni di una stagione di catarsi e riscossa con la ciliegina di una pro dai playoff, insperato fino a un mese fa. I tifosi sognano che quella con la Gevi non sia l'ultimo capitolo di questo 2021-2022 e si augurano che maggio non sia l'ultimo mese con coach Banchi al timone di una barca pesarese riportata su un'altissima onda di entusiasmo. Banchi, che però ospite nel salotto di Insieme a Canestro di Rossini TV, ha speso parole interlocutorie sul suo futuro. Io il mio futuro in realtà l'ho già deciso e mi aspetta un aereo per riga a breve e quindi cercherò di lavorare insieme alla squadra per garantire la realizzazione di questo sogno che sono i playoff, dopodiché dovrò dedicarmi alla nazionale. Mi aspetta un'estate molto impegnativa e difficilmente questa per me sarà un'estate nella quale avrò tempo per dedicarmi ad un club. Voi sapete quanto è importante durante l'estate fare scelte che poi si rivelano fondamentali per il proseguo della stagione. Ad oggi io mi vedo soltanto impegnato su quel progetto, adesso devo riversare tutte le mie energie lì e questa per la VL sarà un'estate fondamentale dove se è vero che un'estate fa sono stati commessi qualche piccolo errore di valutazione, adesso è assolutamente il momento di non ripeterli. Quindi io auguro a questo club, a questa città di poter cavalcare l'onda di quanto fatto nella seconda parte di stagione, ripartire da questo entusiasmo e riuscire a trovare le risorse, perché tutto il resto c'è, trovare le risorse per avviare un progetto anche perché c'è una base di giocatori dalla quale è legittimo pensare di poter ripartire, non deve essere, sembra non dover essere una ricostruzione ma semplicemente qualche ritocco, però ci sono tutti i presupposti perché la prossima stagione la VL possa essere protagonista. Il futuro a medio termine dice Lettonia, quello a brevissimo termine dice Napoli, dove per i play-off la VL non sarà interamente padrona del proprio destino. Giochiamo per portarla a casa e poi però questo non sarà sufficiente perché dovremo avere un orecchio anche alla partita di Bologna dove Reggio Emilia affronta la fortitudo perché poi lì si entra nell'ambito delle classifiche a VL, se noi siamo forti della differenza favorevole con Trieste, del 2-0 con Varese, del 2-0 con Brindisi, ma questo purtroppo non ci solleva dal rischio di vederci insieme a Reggio Emilia che purtroppo con il quale abbiamo avuto due sconfitte e quello 0-2 sarebbe per noi letale e ci costerebbe l'ottavo posto, l'ultimo per noi disponibile ai play-off. Quindi balliamo tra l'ottava e la nonna posizione che comunque non cambierà nulla nel giudizio generale della nostra stagione, però vogliamo assolutamente giocare una buona partita a Napoli, quindi siamo concentrati e stiamo lavorando duramente per giocare una gran partita lì. Poi alla fine vedremo cosa succederà. Questo non cambia il giudizio, io sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto, dei sacrifici, perché non è stato semplice anche dal punto di vista emotivo gestire questa pressione, questa aspettativa e questo desiderio di ribellione a una situazione che per lunghi tratti di campionato ci ha messo ai margini della classifica. Ora siamo dove sognavamo di essere, pensavano tutti che questa sarebbe stata una giornata chiave per la nostra salvezza, l'abbiamo girata in una partita chiave per un ipotetico play-off, quindi cosa meglio sperare e augurarci e spero che anche questo per i ragazzi sia di input per giocare una grande partita, ma con molta leggerezza e con grande soddisfazione. Siamo una buona squadra, dobbiamo esserne consapevoli, andare lì e fare una bella partita, divertirci, essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché io veramente sono molto orgoglioso di loro.